Che Dio sia così, che questo io, che è Dio, in realtà sia un noi, così pieno e perfetto di essere una realtà sola, di essere un io, non tanti, non una società per azioni, ma uno, per noi che lui sia questo nella sua realtà profonda, è importantissimo perché se è vero, come dice la prima pagina della Bibbia, che lui ci ha creati le sue immagini e somiglianza, allora quando è che io, essere umano, realizzo lo scopo della mia vita? Quando penso a me stesso e per garantire me stesso sono disposto anche a schiacciare gli altri o quando nonostante i problemi e le difficoltà sono disposto ad accogliere l'altro, ad aprirmi all'altro, che non è sempre facile, non è sempre comodo, non è sempre gratificante, però la mia strada è lì, se voglio davvero alla fine realizzare lo scopo per il quale lui mi ha pensato e mi ha voluto, è vero o no? Quindi ha a che fare profondamente con la nostra vita quotidiana, sembrerebbe un mistero così strano, così aereo, in realtà è il più quotidiano di tutti, perché il secondo è conseguenza del primo, che lui si è diventato uno di noi, anche quello è un mistero, è quindi la parola mistero che dobbiamo davvero arrivare a dimenticarci che voglia dire qualcosa che non si capisce, vuol dire anche quello, non sarebbe neanche mistero se lo potessimo capirlo e gestircelo, giocarcelo a carte, è un mistero perché non si capisce, è vero, però è qualcosa che riguarda Dio, la realtà di Dio in riferimento a noi, che riguarda quindi la nostra salvezza, riguarda la nostra vita quotidiana, questo è il mistero di Dio, qualcosa di lui che lui ci ha fatto conoscere, che ci ha rivelato, ci vado a sapere che c'è, più che conosce, ci vado a sapere che c'è, ma resta sempre un mistero, qualcosa che va al di là di noi, ma che riguarda la nostra salvezza, ha a che fare con noi, vuole essere il senso della nostra vita, aiutarci a azzeccare il perché siamo al mondo, a non buttare via la vita, sembra chiaro tutto questo, arrivare con la testa a capire, non è poco, però non è tutto perché dopo bisogna vivere, il vero problema poi è dire allora se lui si è buttato per me, allora provo anch'io a buttarmi, sono disposto a rischiare, per noi resta sempre un rischio lato di fede, perché? Perché non corrisponde a un ragionamento matematico, uno più uno uguale a due, tutto bel chiaro, limpido, no no? Nel concreto quotidiano di quello che abbiamo detto fino adesso, cosa c'è di così limpido? Niente. La vita, le forze che dominano la società, eccetera, sono altre, non voglio sapere di ragionarla così, davvero, di pensarci così, facciamo fatica, ecco, credere vuol dire ci rischio sopra, non voglio buttare via quei regali che lui mi mette in mano, che la testimonianza storica di chi l'ha conosciuto mi dice che ci mette in mano quello che ha fatto per noi, che fondamentalmente è la sua nascita, giusto? Anche che è però la sua Pasqua. Guarda che è una rivoluzione copernicana quella di dire, essere convinti davvero che la Pasqua è il centro della fede cristiana, né? 50 anni fa che era una roba, che se ne pensava, gnocca? Non è che non fossero vere anche allora, ma se ne pensava, gnocca? Si era messo la sua ordina in certe cose, invece grazie a Dio il concilio ci ha aiutato a ribaltare. E' quello che spirito è entrato in azione. Ecco, i vescovi stessi in concilio pian piano sono entrati in un atteggiamento spirituale che non avrebbero mai immaginato all'inizio e, e, e hanno permesso allo spirito di agire dentro, infatti è chiamato lo spirito del concilio, quel qualcosa che si è costituito pian piano attraverso la preghiera, la riflessione, le discussioni, la ricerca, le veghe anche tra un gruppo e l'altro, che alla fine ha portato a dei risultati che vanno molto al di là delle capacità stesse delle persone che c'erano lì, perché erano tutte state educate alla vecchia maniera. Nessuno di loro era stato educato a partire dallo studio del concilio. Adesso il vescovo, quando gli l'ha fatto il concilio... Il nostro vescovo ha detto, io sono stato educato, ma non erano, pure anch'io... In quei quattro anni è successo, pian piano hanno imparato ad aprirsi allo spirito, non partire dal so già, è già tutto deciso, sappiamo già cosa fare, ma mettersi in ricerca. E' uscito fuori. In un certo senso è quello che dobbiamo fare ciascuno di noi, è il nostro piccolo, è vero o no? Che non è un pesone, è un'occasione, è un regalo, anche quello, è un'opportunità. Grazie. 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 Grazie.